Questa meditazione guidata farà sì che questa persona possa tornare da te Proprio la persona che desideri e che adesso inizi a visualizzare in modo sempre più dettagliato Hai gli occhi chiusi, respiri, ascolti il suono della mia voce E visualizzi questa persona specifica che tu desideri attrarre La visualizzi in modo sempre più dettagliato, sempre più dettagliato Come se fosse presente E un raggio di luce e di energia che parte dal tuo cuore, arriva al suo cuore, vi connette profondamente E mentre continui ad ascoltare il suono della mia voce e a respirare Lascia che questo raggio di luce e di energia dal tuo cuore Arriva al suo cuore e poi si diffonda in ogni cellula di questa persona Fino ad avvolgerla completamente In modo tale che si crei una connessione telepatica E il tuo pensiero sarà il suo pensiero Le tue emozioni saranno le sue emozioni E mentre continui a respirare tranquillamente E stai con gli occhi chiusi Pensa sempre più intensamente Ciò che desideri Perché questo tuo pensiero Adesso che si è creato Questo entanglement Questa connessione quantistica profonda Una connessione quantistica profonda Un entanglement Questa connessione quantistica profonda Farà sì che Vi coinvolgerete sempre di più Questa connessione quantistica profonda Farà sì che Il tuo pensiero Sarà il suo pensiero Il tuo desiderio Sarà il suo desiderio E quindi in questo momento Devi esprimere un'intenzione Un'intenzione che per legge d'attrazione Diventerà l'intenzione dell'universo Il tuo respiro anche Il tuo respiro anche è calmo e regolare Come calmo e regolare È il respiro dell'universo Come calmo e regolare È il respiro del mare E mentre continui A respirare tranquillamente Ed entrare in uno stato di connessione Con questa persona Con questa persona sempre più profonda Non so se ti stai rendendo conto Che puoi sentire questa persona presente dentro di te Con una connessione Veramente profonda Con una connessione totale Mentre continui Mentre continui Ad ascoltare il suono della mia voce Mentre continui a respirare E adesso ti chiedo Di visualizzare Ciò che vuoi che faccia questa persona Visualizzarlo e pensarlo intensamente Ad esempio potresti visualizzare Questa persona che ti manda un messaggio E allora visualizza Se questo che vuoi Questa persona che prende il telefono E tu puoi guidare la sua mano Mentre questa persona scrive La puoi guidare con il tuo pensiero Perché il tuo pensiero È il suo pensiero Puoi guidarla tranquillamente E ottenere Il messaggio che tu vuoi E adesso che tutto questo è successo Puoi anche entrare In uno stato di coscienza Ancora più profondo In una connessione Ancora più profonda E raggiungere Tutto quello che vuoi raggiungere Raggiungere Uno stato di profondo benessere Raggiungere Uno stato di profondo benessere In connessione totale con questa persona In connessione totale con questa persona Che farà esattamente Quello che tu desideri Inizierà a provare Un'emozione molto forte per te Inizierà a provare Un'emozione Un sentimento d'amore per te E avrà La voglia di ritornare Avrà la voglia Di conoscerti O di ritornare Tu sai Quello che vuoi Lascia che L'universo Realizzi questo desiderio Che non è soltanto Un tuo desiderio Ma da ora È anche un suo desiderio Siete Interconnessi Siete In entanglement Un entanglement Quantistico Che fa sì che ogni tuo pensiero Diventa anche un suo pensiero E adesso Mentre continuo ad ascoltare Il suono della mia voce E respiri Prova Forte Sempre di più Quest'emozione Lascia Che questa emozione Continui a crescere Sempre di più Dentro di te Si sviluppi Totalmente Dentro di te E ti permetta Di attirare Proprio La persona Che vuoi Questa intenzione Che tu stai mandando All'universo Non potrà Far altro Che realizzarsi Non potrà Far altro Che manifestarsi La tua Intenzione Sarà la tua Realtà E la tua Realtà Sarà la tua Intenzione E adesso Che tutto questo è avvenuto Ti chiedo Ti chiedo Semplicemente Di portare L'attenzione Sul tuo respiro Sull'aria Che entra E che esce Dai tuoi polmoni Con la consapevolezza Con la certezza Che questa persona Si manifesterà Che ci sarà Un legame Davvero Profondo Tra voi Un legame Solido Tra voi E adesso Ti chiedo Di fare Tre respiri Profondi E al termine Di questi respiri Profondi Muovere le mani Le braccia Le gambe Poi aprire Dolcemente Gli occhi Con la certezza Di aver attratto Questa persona Specifica Nella tua vita Con la certezza Di aver conquistato O riconquistato Questa persona E non dovrai fare nient'altro Dovrai semplicemente Attendere Che questa persona Si manifesti Nella tua vita Bene 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 Adesso Che abbiamo fatto Questa meditazione Ti ricordo Che La legge L'attrazione Funziona Con la fede La fiducia La legge Di attrazione Funziona Bene E adesso Ti chiedo Semplicemente Di iscriverti Di seguirmi Su TikTok Su Instagram Di iscriverti Al canale YouTube A tutti i miei canali YouTube Attivando La campanella Così riceverai La notifica Dei nuovi video Mi raccomando Iscriviti a tutti i miei canali YouTube Che adesso sono sette L'ultimo canale nato È Sedurre le donne Con Massimo Terramasco Che serve Sia Agli uomini Ovviamente Per sedurre le donne Ma serve anche alle donne Perché possono Imparare Quelle che sono Le strategie Di seduzione Degli uomini E quindi Diciamo Non farsi Prendere in giro Non farsi Fregare Tra virgolette Bene Bene Per questo video è tutto Quindi Ti do appuntamento Al prossimo Al prossimo video Ciao 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 Ciao